Allora, oggi siamo a Roma, al primo congresso scuola auritiana e mi ha trovato un personaggio a caso. Buongiorno, magnifico Rettore Vitali, come sta? Beh, io vedi, vedi, io, come dire, Sanremo è sempre Sanremo, è chiaro? Questo è il punto... Questa mi sembra molto pertinente come affermazione. Assolutamente, ricordiamoci sempre queste cose. Come diceva un noto attore, che fra poco farà uno spettacolo qui a Roma, Enrico Montesani, no, nascosto laddove c'è più luce. Bello, è così che è? E infatti tu mi trovi nascosto dove c'è più luce, una luce non finisce mai. Magari fosse sempre così la vita. Bene, dopo questa premessa illuminante, visto che parliamo di luce, siamo qua oggi al primo congresso di scuola auritiana. Esattamente. Ecco, tu hai visto un po' di gente presente, che tipo di persone sono presenti, da dove arrivano, più o meno, l'idea che ti sei fatta? Allora, dunque io mi sono fatto un'idea che avevo già in precedenza. Ti dico che per un caso del destino, che a me capita spesso, sono arrivato con un certo ritardo. Un ritardo che a me non è dispiaciuto affatto. Ma perché il destino... Perché non l'è dispiaciuto, magnifico Rettore? Perché non... Ritengo inutili le cose che sono state dette. E' completamente superfluo. Ma ricordo e tengo ben presente una persona che ha una lunghissima esperienza di congressi, sia scientifici, che filosofici, che psicologici, che storici e che politici. Antropologico, esattamente. E' che il contesto in cui nascono e si sviluppano delle discussioni, è sempre un contesto legato alla cultura media delle persone che vi partecipano. In caso particolare... No, soprattutto alle fobie interiori delle persone. A te, ma se lo fanno dire... Alle fobie interiori. Lo dirò dopo. Quindi... C'è questo punto molto importante. A questo punto il discrimine è quello della funzionalità, della discussione in un consesso coerente. È finalizzato. Della costruttività e funzionalità. Esattamente. Costruttività, è detto meglio. Ma c'è anche una diagnosi che tu sei costretto a fare nel momento in cui la spinta alla divagazione, al disordine... All'interesse personale. Ma non c'è l'interesse personale. Ecco, ma quindi riassumenti in poche parole. Che cosa ha voluto dirci, Giorgio, finora? Queste tipologie di convegni emergono sempre delle spinte, ma al contrario, scusa, emergono delle spinte che sono veramente distruttive di qualsiasi possibilità di concludere qualcosa su un progetto concreto. Ecco, ma questa che cosa è dovuto? Come mai emergono queste spinte? È dovuto a due fatti. L'aspetto intanto raziale, che è tipico degli italiani, della razza italica. Ah, della razza italiana, ok. Il senso corretto, diciamo di razza italiana, che quando possono litigare, litigo, e dietro c'è indubbiamente anche l'aspetto individualista. L'altro è l'aspetto di semicultura, che è quella che faceva dannare Giovanni Papini. Qui noi ci troviamo di fronte a persone munite di culture estremamente relative. Vuoi fare un esempio di semicultura, Giorgio? Un esempio di semicultura, pratico. Sì, l'esempio di semicultura è un raggruppamento di idee fatte proprie, senza averle né meditate, né digerite, né vissute. E forse nemmeno capite, probabilmente. Eh, probabilmente. La conseguenza è quella. La vera comprensione è nel momento in cui, è l'identificazione del pensiero con la vita, e ritorniamo qui a Platone, e anche a Lice. Trasmirigrazione tra il pensiero e l'azione, in un continuum senza limiti. Allora, stai attento, se tu un'idea non la sperimenti, non ne sarai mai padrono. No, non ha senso. Non ha senso completo. Allora, nel momento in cui, in questa società italiana, non a caso noi abbiamo fatto laboratori di chimica. Esattamente. Tu per semicultura intendi una cultura raffazzonata, insomma. Sì, però c'è ancora perci. Una cultura enciclopedica. No, ma anche accademica. Ma non è accademica, ma monolitica. Ma dopo non vogliamo mai... Monotematica. Non vogliamo e non vorremmo mai negare il valore agli enciclopedisti, che hanno rappresentato una svolta eccessiva. No, ma ti devo dire, quella cultura non masticata, non digerita, non compresa, non collegata, non resa, non resa finata. Un'altra cultura non fatta viva dalla vita vissuta. Questo è il punto essenziale. Quindi è quel tipo di cultura che si ingerisce come una pillola. Io la metto giù e basta. Dove? Non la assimilo. Assolutamente. Non la metabolizzo. Dove qualsiasi tendenza di carattere spiritualistico viene captata da una ideologia che non conosciamo perfettamente, perché è il dogmatismo cattolico. No, ma l'hanno detto. Credere per capire. Non credere per credere. Allora, aspetta Giorgio. Siamo all'antidesi del pensiero filosofo. Scusate, visto che siamo uomini pratici, come se ne esce da questa situazione? È molto difficile, perché l'operazione che è stata fatta... Però la strada è anche teorica. No, 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 guarda, te lo dico su questo. È molto difficile, perché l'operazione che è stata fatta è un'operazione che io ho seguito passo passo e ho denunciato fin dagli anni 50. Andate a vedere gli iscritti e ci sono tutte le denunce che lo fanno. Beh, qua siamo davanti ai signori della denuncia. Lui ha fatto la denuncia concreta in termini giudiziari. Io ho fatto delle denunce culturali denunciando una deriva che è poi la deriva che noi abbiamo visto, perché questa deriva e questa operazione è stata poi fatta propria dai servizi segreti, i quali servizi segreti hanno creato gli opposti estremismi. E questi opposti estremismi non ci sarebbero stati se non ci fossero stati delle persone completamente dominate da una dialegia estranea. Posso dire, Giorgio, che io invece attraverso le denunce si può ricostruire in qualche modo la storia di questa Italia. Le denunce che abbiamo fatto noi, se tu metti assieme tutte le denunce che abbiamo fatto noi hai la storia dell'Italia. Perfetto, quindi non è solamente qualcosa a livello giuridico, a livello di denunce, penali, perché sono penali anche. Io ho parlato delle denunce che facevo nei bollettini che scrivevo negli anni 50, è tutto un altro discorso. No, no, ma io invece parlo della denunce. C'è il dottor Turrisi che ci dita alla... No, mi dovete spostare, il sauritiano deve andare avanti. Ah, ok. Il rispetto. No, no, infatti ci siamo usciti. Quindi lei non condivide quello che dicevamo, l'importanza di quello che dicevamo, ma la vedo un po' contrariata se non tu risi, c'è qualche cosa che non fa oggi. Lui è uno apprensivo che... No, è tutto registrato qua, io non taglio niente. Ci integra nella problematica. Allora, Giorgio, dicevamo, torniamo al discorso che mi interessa, come se ne esce da questa semicultura e dalle conseguenze che comporta? Allora, ti dico subito, non se ne esce. Attraverso la crisi. Aspetta, è buono. Non mi interrompi. No, perché sono la luce, abbiamo problemi di luce poi, anche. Come se ne esce? Ti dico subito, non se ne esce, perché per uscire bisogna avere a che fare con persone dotate di adeguata cultura, che in Italia va scomparendo, proprio l'altro giorno intervistavano a televisione un libraio che parlava della riduzione dell'altro 2% di italiani che acquistano i libri, tenendo conto che buona parte degli italiani che acquistano i libri non li leggono, tu capisci bene che il parametro preso di riflessione... No, ma aspetta, il tenore medio dei libri sono quelli che sappiamo, insomma, come si può... Scusa, scusa, allora, però, questo punto diventa importante. Allora, noi che facciamo? Cioè, se non se ne esce, noi perché ci stiamo impegnando? Perché ci impegniamo? Chi ce lo fa fare? Io ho un impegno. Non ha senso, scusa, è illogico, è razionale. In termini esistenziali, io ho un impegno che ho preso qualche decennio fa e che continuo a portare avanti perché ritengo che sia giusto che almeno alcune cose siano dette e proparate. Agisco nella misura e nella possibilità in cui posso agire, devo ringraziare Orazio che ha una penna facilissima nel preparare delle denunce, facciamo l'unica cosa che noi possiamo fare al momento, in attesa di poter fare qualcosa di più. Quindi le denunce sono dei documenti storici? E' fuori discussione anche le denunce che noi abbiamo fatto. Sicuramente, sono uno spaccato della realtà sociale, economica, politica, giudiziaria. Non a caso tre settimane fa abbiamo denunciato la magistratura nel suo complesso perché è una genia di incapaci, di infami, di persone assolutamente inette, incompetenti, corrotte, colluse con la mafia, che noi abbiamo ampiamente denunciato, aspettando che ci controguererino. Lo bramiamo, come si diceva. Quindi quando qualcuno dice, ma insomma queste cosa denunce, non tanto la magistratura, lei ignora, non ha capito il vero scopo che non è giudiziario, è politico, culturale. Potrebbe essere giudiziario, è archivistico, potrebbe essere un giorno più vicino di quanto tu non credi, l'altro ieri. E' un dossier d'archivio. Allora, scusa, vai in contraddizione, però hai detto che non serve a niente. No, non serve a niente un'altra cosa. Non è che non servano a niente le denunce, no, non le farei. Sto parlando che è difficile uscirne fuori nell'ottica che hai detto tu. Qual è la soluzione per uscirne? Uscirne fuori da una situazione di impasse, qual è quella di oggi, dove la cultura media si sta abbassando velocissimamente, anche perché di fronte a una massa enorme di informazioni che per nostra fortuna comunque arrivano alla popolazione, è una situazione molto ben diversa dall'Italia, tanto per fare una città, degli anni venti, dove la minoranza di gente acculturata era tutta attiva e in una maniera o in un'altra si scambiavano i ruoli del potere. Però, scusa Giorgio e anche Orazio, ma se attraverso queste culture si può ricostruire in qualche modo la storia di questa Italia, perché non farne un volume? Non farne un volume col senso di ogni domanda. E' già pronto. Ah, ecco, sei arrivato in ritardo. Sto cercando gli editori, ci sono otto libri pronti su questo tema. Lui ha scritto una marea di roba. Otto libri, io non riesco a trovare un libro. Io non credo nei libri, credo nella comunicazione diretta, credo nei video, credo nella televisione, non corrotta da questa marmaglia, credo nella possibilità di comunicare, so che oggi il sistema di comunicazione ha avuto una moltiplicazione enorme, perché tutti i giovani ormai vedono internet attraverso il loro cellulare e questa è una moltiplicazione, altro che la moltiplicazione dei panni e dei pesci, hai capito? Questa è la vera, non voglio fare il negativo, ci mancherebbe altro, voglio fare quello che un po' provoca la discussione. Ma quello che emerge da Inter, io lo guardo anche attraverso i commenti del mio blog, mail che mi arrivano, è che è vero che qualcuno magari guarda anche l'Accademia della Libertà, ma poi si guarda altri canali, dove c'è della disinformazione spacciata per avere informazioni, quindi ne viene fuori una confusione, una confusione, mischiano... E' intenzionale. Meglio la confusione dove dentro ci sono informazioni esatte, che il piattume di un'informazione completamente sfalsata, completamente falsa. Rivolgo la domanda a Giorgio e anche a te Orazio, che cosa dovremmo fare Giorgio per arrivare a un numero maggiore di persone? Eh, io credo molto all'automaticità della percezione dei messaggi, è molto difficile arrivare là dove in teoria non si riesce ad arrivare, è molto difficile. Tu pensi che ci sia un numero proprio, non preciso, insomma una percentuale di persone, quando si arriva a quel numero poi, come dire, c'è qualcosa che va avanti da sola, sprigiona un... Esattamente, è vero, è vero, lo dice anche la fisica. La massa critica è questa. C'è un video mio recente in cui documento la validità della terapia di Bella, ma soprattutto la illiceità delle terapie alternative a quelle di Bella, parlo della chemioterapia, che in brevissimo tempo ha raggiunto i 6.000 contatti. L'ho visto, ma voglio dire, questa percentuale quant'è? Poi è una percentuale, voglio dire, chiunque c'è dentro, oppure deve essere una percentuale che abbalancia una certa tipologia di persone? La comunicazione deve essere nel momento in cui tu stabilisci un target, vabbè, allora ti devi attenere alle regole che esistono per raggiungere quel target. Vi faccio un esempio, la pubblicità di certi medicinali è inutile che tu la fai ad altri che non a un medico, è evidente. Ma quando noi lanciamo un amo, che poi è appunto un amo, che è l'amo di dire, guardate signori, vi stanno prendendo per il culo, c'è chi percepisce l'ammessaggio che noi mandiamo e qui non lo percepisce. A questo punto c'è la parabola di Gesù Cristo, il ritorno. Perché io parlo sempre delle parabole di Gesù Cristo? Perché ho sempre sostenuto essere il Vangelo, il coacervo culturale di un'intera civiltà, che è il neoplatonismo. E le parole che dice Gesù Cristo sono parole che ha detto prima di lui Pitagora, Platone, Platino, Porfirio, Epiteto e tanti tanti altri. Ma parli anche di Seneca, in certi tuoi video parli anche di Seneca, che ha avuto un'influenza enorme. Seneca è la persona che fisicamente è stato visto e essendo vissuto ad Alessandria. Io la pensi in maniera un po' diversa, però ti lascio dire il tuo pensiero. Allora, Seneca è vissuto dagli anni 20-30 d.C. ad Alessandria. Per cui è logico pensare che i creatori del cristianesimo, che sono stati dei grandi pensatori alessandrini, dovendo riferirsi a una figura umana, dovendo riferirsi ad una persona umana, perché dovevano avere l'esempio. Io ad esempio nella mia vita mi riferisco ad altre personalità, perché ogni uomo deve avere un riferimento. Certo, il suo eroe. E' importantissimo Napoleone. Allora, quelle due persone, quali sono state? Sono state, la prima è Seneca. Tutta una parte del mito cristiano, dei Vangeli, è Seneca, compresa l'ultima. E' la parabola. Scusami, Seneca, scusa. Seneca è il personaggio. No, il personaggio è Seneca, non è il personaggio. Seneca è il filosofo. Stavo parlando di Socrate. Allora, quella figura, la figura primigenia è Socrate. Il giusto che muore accetta le leggi, perché essendo giusto accetta la legge anche se è giusta. Tu ci vedi il parallelo con Gesù Cristo, che è il giusto che è ucciso. In più aggiungendo anche il martirio. E poi c'è anche Seneca, che è il grande filosofo che ha sintetizzato il pensiero neoplatone. Bene, siamo partiti, Giorgio, da questo primo congresso di scuola auritiana. Un tuo pronostico su come si chiuderà? Così. Cioè, così come? All'italiana. All'italiana. Sì. Un nulla di nulla. Condivido, grazie. Sì. Invece, grazie. All'italiana. Allora, io invece vorrei rispondere a una delle domande che sono state fatte nella mediana, di questa zona mediana. Grazie, Giorgio. Grazie, grazie. Grazie, grazie. Questa è sempre a sua completa indisposizione. Di averci illuminato. Ricordiamoci sempre che Sanremo è sempre Sanremo. Sanremo è sempre Sanremo. Questa dichiara di Baudo, mi pare. Sì, sì. Io invece volevo dire una cosa che secondo me è molto conflittuale con quello che ha detto Giorgio. Molto spesso ci troviamo d'accordo, ma molto spesso no. Non è il frutto delle vostre discussioni questa roba. No, 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 no. Questa invece è l'applicazione di un prodotto puramente biologico, che però mi è stato prescritto da un dermatologo. Ma cos'è? Mercurio, no? Non è Mercurio. No, no, assolutamente no. Vabbè, comunque dicevi, Oranzi. Sì, dicevo che faccio un'ipotesi diversa. Come se ne esce da questa stasi locale di questo momento, questo topico attuale e come se ne esce dal momento topico internazionale. E la stessa risposta. A qualunque unpass e in qualunque situazione di blocco bisogna passare attraverso tutta una serie di fasi che, detta in una parola solo, è la catarsi. Cioè, bisogna arrivare a un punto in cui… Non si può confondere col catarro, è un'altra cosa. Diciamo che è il punto complessivo. Puoi definire che cos'è la catarsi. È la purificazione attraverso l'identificazione e la presa di coscienza interna. Una volta che ognuno di noi, attraverso il sacrificio, attraverso le rinunce che ci imporrà il prossimo futuro grave, distruttivo, tragico che ci arriverà addosso, imporrà alla gente di tornare alle radici e alle fondamenta più crude, più nude, più pure. Che consistono in… Nel rigore del tipo di Seneca o del sacrificio di sé, per esempio, per gli altri, come della mamma che cerca di proteggere con il proprio corpo il figlio dall'assassino. Qualcosa di autentico. Qualcosa di reale, di collegato fra materia e pesiero. Di realmente autentico. A un figlio epiteto tradotto da Giacomo Leopardi. Il contatto con la natura che si è perso, per cui i bambini non sanno più da dove cazzo si fa il formaggio, tanto per dirne, o come si producono le uova, che pensano che c'è la macchinetta… Ma sai qual è la cosa strana, ragazzi? Che sono totalmente d'accordo con te su questa cosa. Ma penso esattamente allo stesso modo. Che coincidenza! Ma guardate, partendo da presupposti diversi, io ho capito che tu hai delle tue convinzioni diverse dalle mie. Però sono, ecco il discorso, il bandolo da Matassa che ci ha portato in giro dalla mattina fino adesso, è proprio questo, che si può partire da presupposti diversi avendo aspirazioni ad anflanti uguali, tensioni e target esattamente identici. Ma quella che è la cosa più importante che nessuno mai fa rilevare e molto spesso, ma anche i filosofi non fanno rilevare qualcuno di grande invece ci è riuscito, tipo per esempio Fioriti, è il modo di raggiungere l'obiettivo, non il raggiungimento dell'obiettivo che è essenziale, ma il modo di raggiungere, quello che è importante nella vita, non il raggiungimento dell'obiettivo che è ininfluente del tutto, ma è il tempo, il percorso che si fa per raggiungere l'obiettivo, quello è il centro della vita. È bella questa cosa, mi è piaciuta veramente tantissimo, è un esistenzialista, lei è un magnifico lettore, su questo pensiero di Orazio cosa ci dice? È un seguaggio di Sartre, cosa ci dice? Io sono conforme… Che io condivido totalmente, da là all'azienda è tutto quello che ha detto, sincero, tutto! Io capisco perfettamente la posizione esistenziale di Orazio, perché è una posizione esistenziale, ma non è finalista, io sono finalista, io capisco… Puoi spiegare la differenza, no? L'esperienza della mia vita è che io ho un fine e questo fine ho incominciato a acquisirlo nell'anno 1947. Si è partito… Sono partito quando dovevo partire, avevo raggiunto una certa qual maturazione e io vado avanti sempre su questa strada. Quindi la differenza fra quello che… Per il pensiero finalista, finalistico tu, e quello di Orazio in che cosa consiste? Ma non c'è conflitto in qualità, no 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 no, sono paralleli? Certo, sono paralleli, ma la posizione di colui attento che io qui da questo punto di vista ho anche degli esempi storici, allora la posizione di colui che dice non è importante il fine in se stesso, basta che si agisca, eccetera. È una posizione che non è da uomo politico, è una posizione come ho detto prima esclusivamente esistenziale, ma nemmeno futurista, il futurista voleva arrivare al futurismo, voleva fare l'arte, l'arte è concretezza. Io ti dico, io sono stato disposto fino ad oggi, la mia vita lo rappresenta, il mio pensiero lo rappresenta, a superare molte difficoltà, per fortuna troppe non le ho dovute subire perché come dico spesso a quei miei amici, ho due occhi davanti ma ne ho tre dietro e quindi chi mi vuole fregare difficilmente mi frega, però il fine io lo so dove voglio arrivare, il mio fine, è vero? E qui abbiamo un seguace del Dio Priapo che fa il battesimo che fa il battesimo, scusa Giorgio, scusa Giorgio, scusa Natto, poi quadriamo anche l'amico Ubaldo, ma non si potrebbe dire che nel tuo caso il fine è un po' più esplicito e nel caso di Orazio è un po' meno esplicito? No, è una conseguenza, è una derivata, tutto sommato ci sono strade parallele, non mi accontento della soluzione esistenziale, punto e basta, perfetto, ma il percorso è quello che costruisce l'identità, mentre l'obiettivo è solo il raggiungimento di un fine. Ragazzi cosa diceva Benito Mussolini? Io sposo Orazio, poi le noccele ci ripariamo intellettuali ovviamente, spirituali, cosa diceva Benito Mussolini? Nudi alla meta, che significa? Anche nudo ma io alla meta ci devo arrivare, alla meta ci devo arrivare, e quando parliamo di Benito non possiamo parlare, non possiamo non parlare, ciao a tutti, allora siamo oggi al congresso auritiano, che idea ti sei fatto di questo incontro? No, ho visto la gente che vuole lottare, che vuole fare, che non vuole solo parlare, che si può organizzare, vuole diffondere i pensieri di auriti, che oggi è di un'attualità impressionante, perché se guardiamo intorno capiamo, quindi non c'è bisogno di farsi un grande sforzo intellettuale per capirlo, ho visto persone di grande qualità dal nord a sud Italia e questa è una bellissima cosa, perché mi fa venire in mente, a me personalmente, un convegno che organizzai io tre anni fa, ottobre del 2010, a Orte, per la sovranità d'Italia, avendo organizzato uno molto prima, che non andò bene per l'ostracismo della questura eccetera, l'ho fatto dopo circa 12 anni e ha avuto un successo, perché oggi tutti dalla Sicilia alla meta d'Italia parlo di sovranità, tutti che hanno preso questo problema a cuore e se non si conto appunto che bisognava lottare non solo per la moneta, che è una cosa importante, perché la sovranità è solito monetaria, ma anche territoriale, perché l'Italia deve togliersi di dosso questa malacappa della potenza genoma negli Stati Uniti d'America, con tutti se connotati che ci condizionano in maniera grave, sia politicamente che economicamente, bastate l'ultimo caso con la Libia per avere la chiarezza dell'idea. Tu magari eri fuori e quindi non l'hai visto, ma qua ci si arrenati sulla parola spirito, che è una cosa assurda, se togliamo quello, abbiamo snaturato il pensiero di Auriti, non ne comprendiamo nemmeno l'essenza. Esatto, questo qua è guai se manchiamo dello spirito, perché questo qui è una cosa che non si può prescindere lo spirito, assolutamente no, e se no vuol dire che andiamo indietro qua, anzi andiamo in contraddizione, anzi e offendiamo la memoria di Auriti. Vabbè, vedremo nel pomeriggio cosa succede intanto. Certo, vedremo. Grazie, 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 grazie Obaldo. Ciao, ciao. Eccolo qua, dal primo congresso scuola Auritiana di Roma. Allora, come?